Per oltre un secolo ci siamo presi cura di generazioni di cittadini, abbiamo prestato loro assistenza, gli siamo stati accanto, siamo i medici e gli infermieri dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Dal 18 novembre la nostra storia continua nel nuovo pronto soccorso del Policlinico di Via Santa Sofia. Una struttura moderna, con nuovi servizi, spazi ampi, tecnologia all'avanguardia, migliore accoglienza, ma con la stessa passione di sempre. La nostra. Non vorremmo mai aspettarvi, ma in caso di necessità sapremo sempre come accogliervi.